Con un comunicato stampa ufficiale, la LND ha reso note le date d'inizio del campionato di Serie D e della Coppa Italia di categoria. Si parte domenica 10 settembre con la prima giornata di campionato, domenica 27 agosto, e invece ci sarà il turno preliminare di Coppa Italia Serie D, con il primo turno in programma per la domenica successiva, ossia quella del 3 settembre, in concomitanza con l'inizio della Lega Pro. Esattamente un mese ci separa dunque dall'inizio della stagione sportiva 2023-2024 in quarta serie per una D che si preannuncia imperdibile. Nei prossimi giorni verranno anche stilati i vari raggruppamenti e dunque a breve si saprà chi farà compagnia alle pugliesi nel Girone H. Le 11 protagoniste pugliesi saranno Fidelissandria, Nardò, Barletta, Casarano, Altamura, Martina, Fasano, Bitonto, Gravina, Manfredoni e Gallipoli. Gravina